Gentili telespettatori, buona giornata. Il centrodestra fa quadrato intorno al presidente della regione Liguria, Toti. Allora, sentir parlare Toti in televisione mi ha sempre dato l'impressione di una bravissima persona. Ex delfino di Berlusconi in Forza Italia, ha fatto fuori dallo stesso Berlusconi che alla fine non voleva intorno a sé delfini, vi ricordate Alfano, Toti? I delfini li ha fatti fuori tutti Berlusconi politicamente parlando. Però mi ha sempre dato l'impressione di una persona corretta. Piano piano mi sto facendo l'idea che forse per fare il politico non puoi essere una brava persona. Probabilmente per fare il politico non puoi essere onesto al cento per cento. Probabilmente per fare il politico magari parti onesto e poi in qualcosa cedi. Perché quello che sentiamo tutti i giorni mi comincia a far pensare diversamente dal passato. Se non sei indagato non sei nessuno, se non sei processato non puoi essere candidato. Allora, il centrodestra fa quadrato intorno a Toti. A parte che io comunque ho sempre pensato che Toti fosse una brava persona, adesso vedremo cosa verrà fuori. Perché l'inchiesta è molto grande. Si parla di compravendita di voti con la mafia, le famiglie di Riesi, gruppi di siciliani che vendevano il loro voto a Genova in cambio di favori, assunzioni, posti, cambi di casa popolare, assegnazioni di case popolari, appalti. Insomma, non mi sembra un'accusa volta per indagare così un governatore prima delle elezioni. Nel centrodestra, per esempio, Lollo Brigida dice tre anni di indagine chiuse a 25 giorni dalle europee. Perché? Ma perché 25 giorni? Siamo al 7 maggio, le europee sono l'8 e il 9, maggio è di 31 giorni, quindi stiamo parlando di 32 giorni. Perché le ha diminuite a 25 giorni? 25 giorni dalle europee. Spiegate a Lollo Brigida che i numeri sono diversi. Comunque, a parte questo, tre anni di indagini chiuse a 25 giorni dalle europee. Perché? Allora, su questo posso anche concordare. Magari le indagini, al posto che chiuderle 31 giorni dopo le europee, vengono concluse 31 giorni prima delle europee. Perché, naturalmente, un fatto del genere non aiuta il centrodestra e avvantaggia il centrosinistra. Di quanto? Secondo me, di qualcosa pari quasi a zero. Non credo che questi fatti possano condizionare le elezioni. Perché? Perché ho imparato a conoscere in questi anni l'elettore italiano e possono anche arrestare chiunque che la gente continua a votare quello che aveva in mente. Questi arresti, questa cosa di Genova, secondo me, non sposta neanche un voto. Io la penso così. Secondo me così non spostano le convinzioni che hanno le persone. Basta guardare poi anche i commenti. Eh, ma Emiliano, eh, ma voi, noi, voi, noi, loro, noi, voi. Tutto così. Quindi c'è tifoseria. Non c'è nessuno che, o sono pochissimi quelli che valutano i fatti per quello che sono. C'è la tifoseria. Sempre e solo la tifoseria. Noi, voi, voi, noi, tu, io, tu, io. Tutto così. Livello molto, ma molto basso. Bassissimo, direi. Ma andiamo avanti. Sono concorde con Lollo Brigida che tre anni di indagini chiuse a 25 giorni delle europee è un po' sospetto, no? Ecco, fatemi dire che è un po' sospetto. Sul fatto che il contenuto delle indagini sia vero o falso, data l'ampiezza di queste indagini, tutti i nomi che ci sono dentro, decine di persone coinvolte e arrestate, fatti e corruzioni di tutti i tipi, credo che sia impossibile costruire un castello accusatorio di questo tipo con tutti questi arrestati per fare un dispetto preelettorale al centro-destra. Non credo. Però il fatto che arrivi a 31 giorni dalle europee è abbastanza curioso. Magari arriva proprio poco prima delle europee, come diceva Silvio, ve lo ricordate, la famosa giustizia d'orologeria. Poi probabilmente tutto quello che c'è in queste inchieste è verissimo. Però magari c'è stata un'accelerazione per chiudere le indagini prima delle europee. Diciamo che la sinistra ha sempre avuto un po' di aiutini in questo senso. Insomma, l'aiutino non si rifiuta mai, mettetevi nei loro panni. Quindi Lollobrigi De Rocca dice che tre anni di indagini chiuse 25 giorni dalle europee. Perché? Il perché è probabilmente quello che vi ho raccontato io. Conte dice che il governatore si deve dimettere. La Schlein dice che il governatore si deve dimettere. Lupi, di noi moderati, dice che garantisti ognuno sceglie se dimettersi. Voi sapete che la giustizia italiana, quando viene fuori una cosa del genere, non è che dopo dieci giorni c'è la sentenza del tribunale. Ste cose vanno avanti. Guardate solo il processo di Salvini, quell'open arms. E' cominciato quando? Quattro anni fa? Cinque anni fa? E' una roba di cinque anni. Ed è ancora ovviamente in alto mare. Quindi il fatto che siamo garantisti, bisogna vedere l'esito, i tre gradi di giudizio, probabilmente i tre gradi di giudizio arrivano quando noi siamo già tutti morti, praticamente ci sono i nostri nipoti. Quindi alla fine dimettersi o non dimettersi sta alla persona, sta a Totti dimettersi o non dimettersi. Se voi avete notato, oggi non si dimette nessuno. Quando qualcuno ha una poltrona danarosa o importante di potere, non la molla per nessun motivo. Cosa che non era qualche decennio fa, appena c'era un si dice che dimissioni. Oggi si dice che mi tengo la poltrona. Vabbè, ognuno poi, come dice anche Lupi, ognuno sceglie se dimettersi. In effetti lui sceglierà se dimettersi. Intanto è stato sospeso dalla Guardia di Finanza. Non è che lo hanno dimissionato, è stato sospeso. L'ex sfidante alle regionali c'è un conflitto di interessi enorme, lo denunciavo da tempo. Quindi ci sono poi le sciacallate a tempo di record. Pronti? Via! Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.